Armando Incarnato trova l'amore. Chi è la sua giovane dea? Clamorosa notizia su Armando Incarnato di Uomini e Donne. Sembra che abbia ritrovato l'amore. Recentemente, è stato avvistato in compagnia di quella che sembrerebbe essere la sua nuova fidanzata. Sono emersi anche alcuni dettagli sull'identità della ragazza e sulle sue caratteristiche. A quanto pare, l'ex cavaliere del programma di Canale 5 ha trovato quasi una dea. Dopo l'esperienza a Uomini e Donne, Armando avrebbe conosciuto una persona molto più giovane di lui, che ora sarebbe diventata la sua fidanzata. Dejanira Marzano ha ricevuto ben tre segnalazioni in merito e le ha subito condivise con i suoi follower. Ora non resta che aspettare la presentazione ufficiale da parte di lui. Armando Incarnato di Uomini e Donne ha una nuova fidanzata giovanissima. Da tempo, Armando Incarnato ha lasciato Uomini e Donne e sembra che non tornerà presto, nonostante le voci circolate di recente. Se davvero ha una nuova fidanzata, sembra che abbia trovato una stabilità sentimentale. Ecco la prima segnalazione social. Armando di Uomini e Donne è in una pizzeria a Foscaldo Marina, Cosenza, in compagnia di una bellissima ragazza con capelli lunghi neri. Un'altra segnalazione ha aggiunto. Ciao Deja, sono a Foscaldo, in provincia di Cosenza. C'è Armando di Uedì con una ragazza giovane con i capelli lunghi neri. Bellissima. L'ultima segnalazione, molto dettagliata, ha rivelato. Armando di Uedì sta con Noemi, a 20 anni meno di lui. Stanno insieme già da tempo, a livello ufficiale in famiglia. Quindi, sembrerebbe che la presentazione in famiglia della sua nuova compagna sia già avvenuta. Tuttavia, al momento non ci sono foto che li ritraggono insieme. Non resta che attendere ulteriori informazioni. In attesa di conferme ufficiali. I fan di Armando incarnato sono in fermento e non vedono l'ora di scoprire di più sulla nuova fidanzata del loro beniamino. Le segnalazioni sono numerose e tutte confermano la presenza di una giovane donna al suo fianco, che sembra aver conquistato il cuore dell'ex cavaliere di uomini e donne. Secondo le fonti, Armando e Noemi si starebbero frequentando da tempo e la loro relazione sarebbe già stata ufficializzata in famiglia. Questo dettaglio ha sorpreso molti, dato che l'ex partecipante del programma non ha mai nascosto di cercare una relazione stabile e significativa.